Ciao a tutti, in questo video spero di non trovare un doppione, speriamo bene, quelli sono bellissimi, speriamo di non trovare un doppione. Vediamo, vediamo cosa viene, eccola, non è un doppione, sono fortunato, bella, eccola, facciamo un guarda prima, eccola. Anche facciamola così, qui c'è fatto bene, meglio, girato, bene, bene, chiediamo telecamera, tutti belli, tutti belli. Ecco la mia serie, e dopo ci sarà anche questa, ancora 1, ancora 1 di aprile, una volta dopo. Ha, ha.